L'Italia è orgogliosa che sia Firenze ospitare l'istituto universitario europeo che da oltre quattro decenni contribuisce all'approfondimento della dimensione accademica e culturale del processo di integrazione europea. Se non c'è più solidarietà in Europa, in mio opinion, non c'è più futuro per l'Europa oggi. Perché l'Unione Europea non è un bambino in Bruxelles, è l'Unione di tutti noi e è così buona come vogliamo farlo. Grazie.